ciao a tutti ragazzi oggi voglio parlare di bionclem che sono stata da di giorgi parrucchieri che si trova in viado a casa petrano e mi ha gentilmente omaggiato di questi prodotti che adesso vi faccio vedere in particolare questo di qua con un shampoo rinforzante e lucentezza ha delle proteine vegetali effetto caratina in particolare questo shampoo protegge le struttura e illumina quindi proprio per ottenere dei capelli sani forti e lucidi con effetti mediati e di lunga durata è un prodotto che comunque ha realizzato lui con proteine con vegetali ingredienti tutti naturali basta comunque una piccola goccia e ovviamente la particolarità appunto di questa di questo shampoo è che chi è allergico al nickel può tranquillamente usarlo abbinato lo shampoo abbiamo anche il balsamo che dà nutrizione e lucentezza e con bava di lumache ovviamente questo di qua va applicato sui capelli umidi e poi va lasciato agire per circa 30 minuti e poi va risciacquato questi prodotti sono in abbinamento quindi abbiamo lo shampoo e il balsamo quindi ci sono di vari tipi e poi comunque c'era anche questo di qua che va dato ed è comunque una tovaglietta per la palestra che è davvero carinissima color fucsia che io adoro e quindi niente ragazzi vi consiglio di andare da salvatore di giorgi nella parruccheria che si trova via adua a casa vetrano troverete tutto qui sotto tutti i link per poterlo contattare grazie ancora